La questione è questa, la facciamo maggiore o minore, però il testo che lo dovete scrivere la portiamo, lo portate qua e lo facciamo noi oppure mettiamo il pianoforte lì? Va bene, andiamo avanti! VELA, VELA, VELA! Riccardo Malasco, sicuro me l'avete ricordato con i madrigalisti moderni? Riccardo Malasco è uno di questi cantastori frentini, ancora belli, hanno una certa età, che cantano queste canzoni che non sai da dove vengono e uno racconta tutta Firenze, tutto sulle ragazze, ma ce l'avrà ogni città una canzone che parla delle ragazze della città di solito, e racconta le differenze, perché a Firenze è fatto di tanti piccoli borsi, le differenze anche solo basta girare un angolo e le ragazze andate in quell'angolo sono diverse da quegli altri, no? Quando è tutt'una questo il quartiere. Le ragazze di via Manicale, con le ciocci e le spazzo alle scale, sempre quelle di Borgo sono spesso alle gregi, conti in terra, catano cesi… rozzai dalle calvera… bambina l'ambulamero, lallei caldero lallà… bambina dallele, lallei caldero… bambina lallele, 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 lallele le ragazze di San Cristiano, tutti i nuovi, e tutte i tempi, e aumentano in manco Visto che sei al pianoporte vorremmo far partire una piccola serie di mitragliazioni di domande alle quali però c'è una costrizione, tu non puoi rispondere parlando ma devi rispondere suonando, ok? Siamo pronti? Prima domanda, che suono fa un consiglio d'amministrazione quando diventa governo tecnico di un paese? Subito! Subito! Neoni? Vai! Neoni? Mecoglioni direi! Scusami, è un consiglio d'amministrazione quando diventa governo tecnico di un paese? Tu vuoi il fuolo del momento in cui... Questa era facile, però... Abbiamo un'altra? La recezione. Se la freghi con un giornale in un giorno che non c'è sole, funziona come i vetri che non tappanna? Non l'ha capito nessuno? Arriviamo a... sentimi... scandire le parole... La recezione. Se la freghi con un giornale in un giorno che non c'è sole, funziona come i vetri che non tappanna? Posso... secondo te, che in quanto sei l'autore, quanto deve durare? Dipende da quanto fa caldo o quanto fa freddo? Scusami, in questo periodo fa freddo... Se le camera spostati, grazie! Capparale meno col freddo... Capparale meno... Dura di 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 più... Od wishesle! No! Qué slavery! No! Dura di meno... Ne humble... che... Se come lascia che abitare le parole le parole... No! No! Grazie a tutti. Grazie a tutti.